Normalmente uno comincia a lavorare e appena ti proponi sul mercato le persone ti chiedono i preventivi. Ora, i preventivi non si fanno, non si fanno, non esiste questa cosa, cioè devi uscire subito dal lavorare gratis, perché tu puoi decidere, ah ok, voglio lavorare x ore a settimana, x ore al giorno, ma se le riempi di lavori gratis è completamente inutile riempirle, per cui devi uscire subito dalla roba, ok, ti faccio la consulenza gratuita e stai due ore col cliente, perché devi capire che cosa c'è da fare con lui, poi gli fai il preventivo, perché diventa merce intercambiabile, per cui non hai alcun valore, letteralmente non hai alcun valore, non si fanno i preventivi. Si discute con le tecniche di vendita rovesciata, che vedremo adesso, un processo di vendita, di inizio di collaborazione, ma quando tu cominci a lavorare, non lo chiamerai preventivo, non lo chiamerai piano d'azione strategico, e quella cosa è da pagare. Quindi, chiaro, se devi venderti tu, dovrai parlare al telefono, fare una call, incontrarti una prima volta con il cliente. Non è una consulenza, non è lavoro, è una tua trattativa di vendita, che deve vendere la tua prima consulenza, che deve essere a pagamento. Grazie a tutti!